Paola, My Club Velico Day, che cos'è? Allora, il My Club Velico è l'associazione che supporta il Club Velico, quindi un'associazione sportiva, culturale e sociale che supporta il Club Velico che invece è una società sportiva. Il My Club fa un po' da ponte tra il Club Velico e la città, attraverso chiaramente l'associazionismo prima di tutto perché siamo circa 200 i soci del My Club Velico, ma poi attraverso l'organizzazione di eventi sportivi, sociali, culturali come per esempio quello di oggi a Parco Pitavora. Una giornata che vede insieme tutte le arti e lo sport? Sì, abbiamo coinvolto tante associazioni sportive, ma anche tanta cultura, la Croma che fa teatro, pittura, abbiamo lo scultore, abbiamo musica, abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutto per offrire alla città di Crotone una giornata diversa. Una giornata diversa in cui emerge il bello di questa città. Esattamente, perché noi siamo convinti che sia fondamentale fare rete, che insieme si possono cambiare le cose, insieme si possono creare delle cose bellissime. È inutile lamentarsi perché è aspettare che le cose vengano calate dall'alto. Noi dobbiamo semplicemente rimboccarci le maniche e fare quello che possiamo, perché Crotone è una città bellissima, ma dobbiamo essere noi crotonesi ad amarla, apprezzarla e ad aiutarla a sbocciare, diciamo così.